I carabinieri di Eboli agli ordini del comandante Luca Geminale a conclusione di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato con violenza sulle cose un 27enne ebolitano pregiudicato per reati specifici. L'uomo veniva bloccato nei pressi della stazione ferroviaria poco dopo che aveva affrantumato il finestrino posteriore di una macchina parcheggiata sulla pubblica via e ha sportato alcuni effetti personali della proprietaria. Gli inquirenti contestualmente hanno analizzato alcuni filmati del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale limitrofo dai quali si poteva chiaramente vedere la dinamica dei fatti. Il pregiudicato è stato condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito e successivamente tradotto verso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari.